Rallentamento dell'economia e disavanzo di bilancio fanno paura in India, dove questo lunedì la rupia ha toccato il minimo storico di 62,46 rispetto al dollaro. Inutili le misure adottate dalla banca centrale, che aveva cercato di limitare il flusso di capitali in uscita dal paese. Dall'inizio di giugno gli investitori internazionali hanno ritirato dal mercato indiano oltre 8 miliardi e mezzo di euro di azioni e titoli di Stato. I vertici economici, però, rifiutano il paragone con la crisi del 91 e assicurano che il paese ha abbastanza riserve di valuta straniera per reggere il colpo. Grazie a tutti.